Chiaravalle, Maida e Bruno scuotono la giunta comunale. Contro il parco eolico nelle preserre alzano la voce due ex primi cittadini. La battaglia sul progetto eolico Torre di Ruggero, Chiaravalle e Petrizi sarà lunga e dolorosa. Per Chiaravalle il parco eolico rappresenta la quasi fine della cosa più bella che il territorio si porta come patrimonio, ovvero l'ambiente e la vivibilità della montagna. Senza contare poi il danno per le zone rurali, sono queste le considerazioni esternate da due ex sindici entrambi di ispirazione centrosinistra. Giuseppe Maida in carica dal 1993 al 2002 e poi Nino Bruno in carica sino al 2012. Due primi cittadini che per 18 anni hanno occupato la sede municipale di Via Castello con in tasca la testa dei DS prima e del Partito Democratico poi. Adesso non sono intenzionati a recitare la parte degli spettatori non paganti perché si sentono fortemente motivati a riprendere il ragionamento e la posizione del no all'eolico di quanto erano in carica. Al netto di quelle che sono le direttive nazionali che assegnano al Ministero e alla Regione Calabria il rilascio delle previste autorizzazioni, bypassando i propri comuni che hanno poca voce in capitolo, per Giuseppe Maida e Nino Bruno la questione si deve spostare sul tavolo strettamente politico e delle posizioni da assumere. In questo momento, ha detto Giuseppe Maida, dentro il municipio per 18 anni, prima come sindaco e poi come vicesindaco, manca la voce dell'amministrazione e del rappresentante dell'ente. Fanno capire che tutto era previsto e che oggi possono fare ben poco per arginare il fenomeno dell'eolico, senza contare poi che la posizione di un consigliere o di altri consiglieri sembra contrastare con quella del sindaco Domenico Donato. Nel corso dell'ultima conferenza tenuta dall'amministrazione è stata palese quella forma di imbarazzo del sindaco, smentito dai collaboratori per quanto riguarda la mancata pubblicazione dell'avviso. Torre di Ruggero e Chiaravalle l'hanno tenuta nel cassetto e credo senza ombra di smentita volutamente. Petrizi, in maniera corretta e legittima, ha pubblicato il tutto per rendere pubblico quello che stava succedendo nei rispettivi territori. Eppure, né il sindaco Domenico Donato, né quello di Torre di Ruggero, Vitoroti, hanno dato spiegazioni in merito. Hanno voluto dribblare la questione che per noi del Partito Democratico rimane delicata. Qualche dubbio in ordine alla pubblicazione all'albo è venuto pure a Nino Bruno. Un'omissione, ha detto l'ex sindaco in carica sino al 2012, che di fatto ha impedito alla possibilità di produrre a tutti osservazioni. Ci domandiamo che l'omissione potrebbe avere ripercussioni e quindi inficiare tutto l'iter procedurale della progettazione, che è in attesa dei previsti pareri dei due ministeri, prima di approdare sul tavolo dei dirigenti della Regione Calabria. La linea di contrasto che porterà Nino Bruno nasce sul solco della linea tracciata, quando il Consiglio Comunale dello stesso, presieduto, si era opposto alla nascita di un parco eolico. delibera di consiglio non reperibile agli atti del municipio, che ha dato vita ad un giallo su quello che è stato definito il mistero della delibera scomparsa. Per i due rappresentanti siamo alle primissime battute di quelle che saranno le azioni che si andranno a mettere in campo per arginare il fenomeno della nascita degli aerogeneratori nelle montagne delle Preserre. Entrambi si aspettavano la convocazione di un Consiglio Comunale aperto.